accettiamo. Allora, intanto un abbraccione a tutti direi, do un abbraccione, vedo molte facce che conosco, ci sono più schermate, può darsi che ci sia qualcuno che non conosco perché abbiamo aperto questo speech a tutti, quindi do un abbraccio anche a chi non conosco ed è l'occasione in questo caso proprio di sperimentare un po' il lavoro che facciamo. E questa sera abbiamo un titolo particolare, un titolo importante per il nostro approccio perché è la via dell'eccellenza ed è uno speech extra, nel senso che non fa parte dei nostri appuntamenti, è uno speech extra per festeggiare questo nuovo corso che abbiamo inaugurato che è appunto top level trainer, adesso non mi ricordo se l'abbiamo un po' cambiato, comunque quello che è importante è che è partito un nuovo corso che si concentra nella dimensione energetica che porta la Gestalt, proprio il ciclo di contatto come uno spazio energetico, perché quando parliamo di energia parliamo sempre di qualche cosa di poco palpabile e la Gestalt è proprio nata per dare scientificità a ciò che era inconsistente, come era l'inconscio, secondo appunto i padri della Gestalt. E allora anche questa dimensione vuole dare alla Gestalt, alla parola energia una dimensione diciamo che non non è che nega ma che dà una chiave di lettura che non sia impalpabile e il ciclo di contatto della Gestalt per chi già lo conosce è proprio il sistema per attivare lo stato vitale e questo corso si concentra quindi in una dimensione energetica ed è uno spazio nuovo, ma stasera noi non presentiamo il corso, è semplicemente che questo nuovo passaggio che dà un assestamento all'accademia, anche energetico, lo appunto lo festeggiamo con uno speech per tutti. Quindi è semplicemente l'occasione di questo passaggio e ci sembrava la cosa più bella farlo con questa parola eccellenza, che è una parola che non so come vi risuona però è una parola che noi utilizziamo nel nostro percorso e quindi faremo un giro di Gestalt nella parola eccellenza. Per chi non conosce la Gestalt o non conosce noi significa entrare dentro e fare un giro di esperienza, puoi tradurre la parola Gestalt con esperienza. Infatti quello che andremo a fare oggi per certi versi non è nuovo, almeno non è tutto nuovo, ma è pensato, pensato oggi al mare, pensato proprio per dare una spinta a tutti noi verso l'eccellenza. Quindi vorrei che questa sera fosse proprio un'esperienza e non un pensare. L'intento che io ho messo è che ci fosse proprio una spinta per fare un passo in più e se vuoi quindi un passo dentro questa parola eccellenza. Per chi non ci conosce lo speech Gestaltica è un format dove io parlo ma non per trasferire informazioni ma per agitare il tuo potenziale, per stimolarlo, per anche provocarti. Quindi non è tanto quello che dico che è importante ma che cosa si muove dentro di te mentre io parlo ed è quello lì che è il potenziale che oggi modelleremo alla luce di questa parola eccellenza. Allora per iniziare vi chiederei di fare una sorta di centraggio in modo tale che si crei un dialogo fra te e te, fra te e me ovviamente perché andiamo un po' a collegarci, a centrarci su dove siamo noi adesso e allora io direi di farlo proprio con questa parola. Quindi quello che ti chiedo è di trovare il tuo modo di appunto centrarti che può essere col respiro o seguire il rallentamento della mia voce che sta diciamo dando l'occasione, uno stimolo, però tu potresti averne altri. Non è una cosa lunga da fare, è semplicemente una scelta di collegarti con tutte le tue parti perché l'eccellenza ha a che fare nella gesta con la parola integrazione. Cioè quello che ti chiedo è contatta tutte le tue parti in modo tale che tu possa essere presente in questo spazio di tempo integralmente, anche con le parti che magari in questo momento sono nello sfondo. Quindi ti invito proprio a chiamare anche chi era distratto dentro di te. Ti invito a dare una seggiola anche chi ha qualche cosa da non condividere stasera. Invita quella parte che stai nascondendo. Invita quella parte che è nell'ombra. Vedrai che l'eccellenza parte da qua. E con questo spazio di centratura e questo spazio di integrazione io ti invito proprio a visualizzare questa parola eccellenza come scritta nel cielo, un po' come nei film di Fantozzi. Se ti ricordi che c'è scritto enorme. Fantozzi e lei. Allora eccellenza e ti invito proprio a stare sul tuo sentire sensoriale. Cosa ti suscita questa parola scritta grande? Di che colore è? Che grandezza, che emozione ti dà questa parola eccellenza? A chi attribuisci questa parola eccellenza? Nella gesta niente deve accadere e niente non deve accadere. Può darsi che tu abbia una visualizzazione potente, può darsi che tu non veda niente. Stai su quello che accade dentro di te e appunta ciò che senti importante. Ok, allora se hai un foglio magari annota, magari o scrivi la parola annota se si è associata a qualcosa, ma soprattutto annota se questa parola tu l'hai associata a qualcuno. A chi associ la parola eccellenza? A chi o a cosa associ la parola eccellenza? Perché se vuoi un altro modo di vedere la parola eccellenza è quello di riappropriarsi delle proiezioni. L'eccellenza che tu vedi nell'altro è l'eccellenza potenziale in te. Allora a chi hai dato questa parola? A chi hai ceduto il tuo potere nell'eccellenza? Evviva! Allora torniamo, la centratura è finita. Allora il tema della eccellenza è un tema a noi conosciuto, ne parliamo quasi sempre nei webinar e quindi faremo questo giro ulteriore e quindi quello che ti chiedo è guarda dove sei in questo momento perché stasera hai pensato per fare un movimento. Quindi non è tanto avere un'informazione in più sull'eccellenza, ci sarà anche qualche informazione in più, ma quale passo puoi fare da dove sei tu adesso? E quindi ti chiedo subito di monitorare, dare un voto da 1 a 10. Tu rispetto alla parola eccellenza quanto le esprimi nella tua vita da 1 a 10. Spero che sia un voto basso perché così hai tanto spazio di potenzialità. È un invito questo, può darsi che tu le esprimi anche tanto, però come ti ho chiesto all'inizio, ti ho suggerito di invitare le parti che non erano presenti, io ti invito di andare a sfrugugliare quelle parti dove sei poco eccellente. Dov'è che sei poco eccellente? E dai un voto, ma non un giudizio, dai un voto di presenza, perché l'eccellenza ha a che fare non col giudizio ma con la presenza. Se tu non sei presente a quello che c'è non puoi modificarlo, se invece lo giudichi lo chiudi in cantina. Quindi sii spietato, ma non verso di te. Sii spietato nel leggere la realtà. È molto benevolo nei tuoi confronti. Dicevo quindi che è una parola di cui noi ci nutriamo spesso, però è una parola molto ambigua. E per noi, adesso vedremo alcuni punti, faremo anche delle classiche cose che facciamo sull'eccellenza, però dobbiamo avere un'impostazione chiara. L'eccellenza in chiave gestaltica, almeno nel nostro spazio, non è un aggiungere, non è raggiungere la perfezione, è un togliere ciò che non è tuo. Questo lo facciamo molto chiaramente quando facciamo, per chi fa il corso formatori, parlare in pubblico con la gestalt. Noi non facciamo un lavoro sull'addizione per avere la voce. Noi facciamo un lavoro per prendere quella tua imperfezione e farla diventare la tua firma. E allora Maurizio Costanzo, che borbotta, è riuscito ad essere Maurizio Costanzo proprio perché borbotta. Allora dobbiamo trovare il nostro borbottio. La nostra eccellenza passerà di lì. Passerà in questo borbottio che vedremo che in tutti i nostri giri di gestalt lavoriamo su questa dimensione dell'imperfezione, ma oggi lo faremo su un'ottava superiore. Perché il rischio dell'eccellenza è quello di leggere l'eccellenza in chiave performante o in chiave elittaria. La gestalt dice no. Non so se avete letto quel libro, come si chiama, il tracollo della mente bicamerale. Comunque non è tracollo, comunque è la caduta della mente bicamerale, una cosa del genere. E mi sembra che sia in questo libro qua dove dice che Omero, siccome racconsego Omero che parla con l'idea e le divinità, dice Omero non si accorge della follia di quello che scrive. Semplicemente perché la follia in quel periodo era dappertutto. Cioè tutti credevano di poter parlare con le divinità. Allora, adesso al di là di credere non nelle divinità, quello che è interessante è che ciò che è diffuso non lo vediamo. Allora l'eccellenza è così diffusa che noi non la vediamo. Allora il punto è cosa dare valore a ciò che è davanti ai nostri occhi. Quindi il tema dell'eccellenza è che è dappertutto è accorgersi di questa abbondanza di eccellenza che è la differenza. È come l'aria, te ne accorgi solo se manca, ma l'aria non è che tu gli dai tanto valore, la respiri. L'eccellenza è ovunque. Il punto è se tu sei in grado di riconoscerla e di portarla in primo piano. Ma in questo spazio che io ti chiedo è sei in grado di riconoscere la tua eccellenza? Allora prova a immaginare che sia un po' come la follia di Omero. È dappertutto. Sai, noi in Italia siamo agevolati perché se tu vai in Francia ti prendono col pulmino, ti fanno fare un viaggio per vedere una pietra. Noi le pietre ce le abbiamo ovunque perché nel senso che giriamo le nostre città, ovunque vai sono opere d'arte, ma non c'è niente, a Genova non ne parliamo. Genova è una città, è un museo a cielo aperto, ma tu non lo sai, nel senso che ci passi sotto. Se non hai gli occhiali, tu passi sotto delle opere d'arte, così, con una cagata di piccione sopra. Ciao, un po' di focaccia e ciao, un mogugno genovese. Allora, il punto è, se tu fossi l'Italia, di che cosa? Se tu fossi l'Italia ma fossi amministrato da un francese, pensa come potresti darti valore alla minima minchiata che fai. Allora vorrei che stasera incominciassimo a darci valore per le minime minchiate che facciamo, perché è un allenamento darsi valore. Se non lo fai sulle cose piccole, non lo fai neanche sulle cose grandi, perché significa davvero, è come essere contenti anche di una piccola cosa. Allora inizia lì l'eccellenza, nel riconoscere. E un po' sai con gli occhiali polarizzati, che quando li vedi, vedi che c'è qualcosa che non vedevi prima. Ecco, bisogna mettersi questi occhiali polarizzati all'eccellenza. Anzi, mettili adesso questi occhiali. Incomincia a fare a 360 gradi una sorta di ricognizione della tua vita e individua tutte le eccellenze. Guarda che è difficile riconoscere, perché per te sono normali. Se ci farai caso, le eccellenze, sì, le puoi, i cartelli stradali delle tue eccellenze, non sono novità quelle che ti dicono, le facciamo dal, ci stiamo solo tornando sopra. Le eccellenze, tu le riconosci, c'è un cartello subito, perché sono quelle che ti fanno litigare con qualcuno, ti fanno essere giudicato da qualcuno, perché le stai usando male. Ma sono quelle. Perché per te è normale fare quella cosa in quel modo lì. Per cui sono le responsabilità che ti danno. Ma perché me la danno a me sempre quella responsabilità? Perché tu hai quel dono. Ma per te è normale perché tu sei fatto così. Allora, siccome stasera vorrei che facessimo un passo in avanti verso l'eccellenza, scrivi almeno tre cose. Scrivi almeno tre cose che da domani potrai amministrare diversamente. Che non vorrei che fosse una serata dove ci autoglorifichiamo delle nostre imperfezioni. Vorrei che fosse una serata che ci porti a vivere diversamente domani. Allora devi vedere la tua genialità. Se vuoi devi vedere i tuoi geni. Cioè la tua firma unica che è nel tuo DNA. Allora il tuo DNA è unico. Sei solo tu che non lo sai. Sei solo tu che cerchi di andare bene, di farti andare bene, di farti accettare dagli altri. Solo tu, solo io sto parlando per provocare. Non sto dicendo delle cose vere, come sai. Sto dicendo delle cose che ti possano far smuovere. Perché l'obiettivo di questa sera è allungare il passo. Perché questo è un tempo di grande cammino. non so come state vivendo voi in questi tempi. C'è chi li vive nel dramma. Ma fa quasi ridere. Questo è un tempo da correre, ma non scappare. Correre perché è il momento di allungare il passo. È il momento di bruciare i chilometri. Cioè questo è il momento del contatto pieno. Questo è... Succede tutto sto casino perché c'è alchimia, c'è ciccia. Quindi ognuno deve andare per la sua strada. Quindi stasera allunghiamo il passo. Com'è? Come sta andando? Fatemi una smorfia se va male. Vediamo se c'è qualcuno che sta smor... perché bisogna andare sempre al passo del più lento. Ci volgo. Vabbè, i visi mi sembrano abbastanza... Allora, sì, dicevo che quindi dobbiamo stare nella nostra, diciamo, nella nostra firma, no? Dicevo, geni, genialità. Tema che noi conosciamo, ma tutto ciò che non sarà legato alla nostra genialità, cioè al nostro DNA, cioè alla nostra umanità, sarà spazzato via dalle macchine. Sapete che Turing, questo... come si dice, questo scienziato aveva elaborato il test di Turing, che era un test, siccome con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, questo era un test che si faceva per vedere se... cioè il test di Turing era quando la macchina avrebbe superato il test di Turing sarebbe stato un passaggio di stadio, cioè tu non potevi più riconoscere una macchina ad una persona. E questo si faceva, sai, anche con i giocatori di scacchi, perché con gli scacchi riescono... le macchine riescono a vincere... riescono a vincere i giocatori, no? E quindi il test di Turing è un po' una sorta di test immaginario, nel senso che quando si supererà questo test non ci sarà, vi a dire, un ritorno, no? Perché tu non puoi sapere se è una macchina o una persona umana. Il punto è che se ci avete fatto caso, il test di Turing lo stanno facendo le macchine a noi, perché quando vai su internet a un certo punto ti dicono, sei un robot, devi rispondere. Quindi il test di Turing ce lo stanno facendo loro adesso. Quindi, secondo me, quella frontiera è passata. E allora, qui è meglio allungare il passo, perché sennò ci fanno diventare dei piccoli robot che dobbiamo rispondere sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, e poi ti danno uno stipendio proprio per arrivare alla fine del mese. Cioè, il punto è che oggi sei obbligato a diventare ricco. Cioè, siamo obbligati a diventare ricchi perché o rimani poverissimo o diventi ricchissimo. Cioè, o rimani con le macchine e quindi vieni pagato meno di una macchina oppure devi tirare fuori la tua arte. E quindi stasera facciamo questo lavoro qua. Allora, per farlo partiamo dal nostro patrimonio che conosciamo. Quindi facciamo due cose che conoscete però le facciamo oggi. Quindi, falle dallo stadio in cui sei adesso. Allora, che cosa hai fatto di eccellente nell'ultima settimana? Non è un giudizio, l'hai fatto. Il punto è che l'hai fatto. Te ne sei accorto? Per chi non ci conosce, noi stesso facciamo per esempio nell'attivazione del coach interiore che è questo seminario di ingresso che serve per vedere se poi c'è spazio anche di lavoro per fare il corso ma in realtà è un seminario di accensione della propria guida interiore della nostra talento e lavoriamo proprio su unici, eccellenti, mediocri, scarsi. Penso che molti conosciate questo schema, no? E il punto è che questa dimensione qua ora, il passaggio dallo scarso al mediocre e dal mediocre all'eccellente e all'eccellente all'unico è legato ad un fattore specifico che conosciamo quindi però te lo chiedo adesso che cosa ti ha impedito di non essere più eccellente di così di come sei stato questa settimana? Che cos'è che ti ha impedito perché le ore che abbiamo sono le stesse. Tu sei stato eccellente su tre cose, perché non su cinque? Perché non sei stato eccellente su tutto? Che cos'è che ti ha impedito di, cos'è che ti ha fatto fare una cosa, ti ha fatto retrocedere alla mediocrità? Allora vorrei che stasera tu trovassi una tua risposta, io ne do una che conosciamo già perché ci serve per questo viaggio, però tu datti la tua risposta perché nessuno di noi è la prima volta che è qua probabilmente quindi la tua risposta si va a raffinare, però il grosso passaggio dalla mediocrità all'eccellenza è legato al mantello dell'invisibilità di Harry Potter cioè chi è un po' mago quindi tradotto in chiave simbolica ma quindi chi è un po' artista chi è un po' creatore si nasconde perché se tu devi diventare eccellente e unico ti devono vedere e quindi il passaggio dalla mediocrità all'eccellenza è legato al togliere il mantello dell'invisibilità allora ti chiedo sei disposto a togliere il mantello dell'invisibilità laddove l'hai messo e giocando su questa così questa metà però se dovessi togliere il mantello dell'invisibilità cosa apparirebbe di te? E quindi proprio non so visualizza di toglierlo proprio sai del tipo tutti fanno tipo i vestiti nuovi dell'imperatore cosa direbbero le persone qualcuno farebbe qualcuno qualcuno cosa farebbero le persone se tu ti togliessi il mantello dell'invisibilità guarda che le persone non sono tutte uguali per cui ci sarà chi farà chi farà chi farà e allora il giorno che tu ti togli il mantello dell'invisibilità oppure quel mantello dell'invisibilità che hai già tolto ma la parte che non hai ancora tolto ti farà avvicinare alle persone con le quali tu puoi creare e ti allontanerà dalle persone che ti portano verso la mediocrità quindi questo mantello dell'invisibilità per giocare con questa metafora di Harry Potter è una grande manopola allora non sei tu che devi toglierti gli amici che ti tengono giù tu basta che ti manifesti e gli amici spariscono perché ne arriveranno di nuovi perché li stai tenendo con una manipolazione facendo finta di non essere quello che sei perché se ti facessi vedere non sarebbero con te meno male hanno bisogno di essere amici di qualcun altro e tu anche così uscite da quell'incastro che è la mediocrità che stiamo tutti vicini anche se non ha senso che ci stiamo facciamo un lavoro insieme anche se non ha senso farlo insieme ma così siamo più sicuri ci facciamo pagare poco perché ci pagano poco perché non tiriamo fuori la nostra unicità e quindi che caso ci devono pagare a fare niente allora vabbè però l'importante è che ci dai qualcosa è qui che si inverte quindi tutto il rapporto allora il punto è questo mantello dell'invisibilità allora intanto se avete appuntato qualcosa come vi siete visti senza quel pezzo di mantello può essere già un passaggio guardate che queste cose stanno già agendo intanto incominciate a guardare le altre persone più nude che cosa è che vedete dell'altro perché mettete gli occhiali polarizzati ovviamente perché senza occhiali non vedete tutto uguale ma se mettete gli occhiali polarizzati incominciate a vedere che le persone stanno cambiando allora qual è il potenziale che sta uscendo di ognuno di noi però non basta l'altro grande sistema che noi utilizziamo nell'eccellenza se ricordate non è cioè da un lato usiamo lo schema no scarsi mediocri eccellenti unici ma l'altro è per chi fa il corso lo schema motivazione ruolo stile per chi non adesso parlo veloce e do delle pennellate perché c'è qualcuno che non conosce queste cose però sostanzialmente se tu devi fare un lavoro lo fai per una motivazione no per cui io voglio aiutare tutte le persone bisognose la crocerossina e questa è la benzina per cui fai le cose però poi se devi farlo come coach o farlo come infermiere o farlo come psicologo cambia no e quello è il ruolo cioè circoscrive il punto di vista col quale tu aiuti e questa è la prima fatica perché le persone fanno fatica a passare a questo passaggio perché io voglio fare è un'apertura invece restringermi mi dà fastidio però quel confine lì quel ruolo lì è quello che ti dà la forza perché diventi come un canale per cui l'acqua passa in un canale prende corrente ed è lì il grande passaggio radicarsi in un ruolo per questo la forza del coaching estaltico che facciamo noi non è tanto la tecnica ma è proprio irradicarsi nel ruolo entrare nelle dinamiche nel ruolo stare fermo quando tutto si muove intorno però poi noi facciamo fare il passaggio con lo stile lo stile è come colori il tuo ruolo va bene quel ruolo lo faccio così però lo coloro a modo mio allora sarò provocatore sarò accuditivo sarò estroverso sarò introverso sarò silenzioso burbero che sono non sono altro che le nostre imperfezioni ad un'ottava superiore per cui rimango dentro il ruolo ma lo coloro l'eccellenza è il passo successivo è il gradino che manca a questo trittico perché l'eccellenza te la puoi permettere solo quando tu hai fatto tutto questo passaggio e ti sei così radicato nel ruolo che puoi strabordare e quindi questa sera vorrei proprio che ci fosse uno strabordamento del nostro stile perché è un po' come in chiave gestaltica è un po' come la zona di comfort si dice sempre di andare oltre la zona di comfort mentre in chiave gestaltica noi diciamo no aderisci così tanto alla zona di comfort che ne uscirai dall'altra parte perché la zona di comfort è lì l'hai creata per un motivo per cui devi devi uscire dall'altra parte della zona di comfort non devi allontanartene così il passaggio all'eccellenza è proprio un passaggio di radicamento nel ruolo così tanto che a un certo punto vai oltre la gestalt l'eccellenza ti porta fuori dalla gestalt perché sostanzialmente ci siete? perché io vi ho perso un altro allora ho detto oltre la gestalt siete spariti tutti e si vede che questo era importante non dovevo dire una cosa del genere oltre la gestalt non dovevo dirlo allora oltre la gestalt perché la gestalt è quando tu incontri la gestalt impari a esprimere il talento la spontaneità all'interno di una grammatica precisa questa è la forza che è quella che ti fa incontrare le persone al confine stare dentro al ruolo stare al ritmo non dare le cose senza che non dire le cose se non ti vengano chieste quindi stare in uno scambio ecco quando tu hai fatto questo giro ruolo motivazione ruolo stile e ti sei così radicato puoi uscire dall'altra parte un po' come la zona di comfort e puoi sconfinare perché l'eccellenza a un certo punto è un'esperienza di sconfinamento è un'esperienza di dare senza chiedere è un traboccare c'è un momento in cui non passi dal ragioniere te lo dico se tu me l'hai chiesto sto attento a quello che facciamo nei laboratori di coaching impari a gestire tutte quelle cose poi a un certo punto puoi spazzare via tutto perché a un certo punto sei come una fontana che dà acqua ecco l'eccellenza è quel gradino lì che ti puoi permettere solo se però ti sei radicato così tanto da poterne poi uscire allora non so come vivi tu questa cosa però vorrei che queste due parole ti potrebbero arrivare in tanti modi chiare non chiare forti o deboli però vorrei che tutte le vedessi proprio scritte traboccare e sconfinare come può essere per te l'esperienza del traboccare e dello sconfinare e senti che cosa si muove dentro di te per ognuno è diverso ma per ognuno c'è un momento per ognuno di noi c'è un giro di gestalt su questa cosa allora il punto è che cosa è pronto per traboccare che cosa è pronto per essere sconfinato questo è il cuore del lavoro che faremo in quel corso di gestalt energetica top level o top model è tutto un lavoro su questa dimensione che trascende non solo il ruolo ma trascende anche i progetti perché quando vai a lavorare in questa dimensione qua a un certo punto non c'è neanche più una distinzione col tuo lavoro sei tu infatti non lavoreremo in questo corso sul progetto ma lavoreremo sulla tua ambizione allora su questo io mi sono scritto poche cose per fare questo viaggio di traboccamento tanto non so per te se ti è scritto qualche cosa così però io mi sono scritto dei passi per fare questo passaggio nel radicamento nel ruolo così da uscire dall'altra parte e traboccare che sono anche dei cartelli stradali che ti dicono sono lì allora il primo non devo fare il bagno perché mi va via la voce faccio i giorni il bagno ma non è proprio sempre così caldo allora il primo è la semplicità cioè il criterio è che più sarà semplice il nostro lavoro più sarà spontaneo più sarà automatico e più siamo in quel siamo nella fase del traboccamento c'è un punto in cui non abbiamo più la cognizione del lavoro e lavorerai così tanto senza rendertene conto perché a quel punto è il tuo modo di essere non è più qualche cosa che fai ma è semplicemente qualcosa che sei come il respirare allora sei una fontana ambulante e chiunque ti passa vicino si becca l'acqua dice non ha pagato chi se ne frega all'inizio ti devi far pagare perché sennò svalorizzi a quando tu sei fonte non puoi sei ormai non c'è più il rischio che tu non ti valorizzi e quindi non è neanche più bisogno di farti pagare arriveranno i soldi semplicemente come tu dai il secondo cartello è un'intenzione per un punto martin perse la k cioè devi scegliere la tua strada fino in fondo non basta arrivare a 99 l'eccellenza richiede il 100 ma non per essere perfetto per andare fino in fondo allora qua ti chiedo che cos'è quell'1% nella tua vita oggi sei arrivato a 99 su tante cose cos'è che cos'è che ti fa fare il 100 se ti arriva un'intuizione la scrivi se no non preoccuparti ti arriverà un'intuizione il terzo guardate che io sto calcando delle strade che abbiamo già camminato i sentieri si tracciano camminando da quel libro che racconta che fa diciamo il paragone tra il cervello e le foreste no e le neuroscienze e scusate le neuroscienze le immagino percorsi neuronali come delle foreste e immagina la meditazione come il camminare dentro questi percorsi neuronali allora quante volte ci camminiamo e li riguardiamo con occhi diversi allora stasera come stai guardando cose che abbiamo già conosciuto però semplicità dov'è che sei più semplice tu qual è il punto che ti permette di fare 100 non per essere perfetto ma per completare quindi che cosa stai lasciando aperto perché senza quel punto quel punto lì ti fa fare la slot machine finché non lo fai è fermo il terzo punto è dare davvero valore alle tue storture cioè qui non basta amministrarle bisogna dargli davvero valore cioè la o la finisci di cercare di metterle a posto o non fai questo passaggio nell'eccellenza è proprio grazie alla tua gobba che farai fortuna non puoi mettere a posto la gobba se no sei uno fra i tanti allora quali sono le tue gobbe questo è un corso di ginnastica posturale come al contrario dovete uscire tutti i gobbi tutti così in questo senso il coaching non può essere il coaching performante il nostro perché noi dobbiamo proprio entrare dentro quelle posture strane se dovranno raddrizzarsi si raddrizzeranno da sole non è tramite il dovere per questo per il coaching estaltico la disciplina è una conseguenza e non una partenza e come ultimo passaggio dobbiamo scendere ad un piano e qui chiudiamo il cerchio dove siamo partiti è energetico cioè tutto quello che noi abbiamo già chiarito bisogna che si trasformi su un piano non solo mentale ma energetico e quando dico energetico non mi riferisco a qualcosa di impalpare ma mi riferisco al ciclo di contatto della gesta cioè ci deve essere un collegamento con ciò che è davvero vivo dentro di te allora le parole che metterai diventeranno parole energetiche si dice che la parola può cambiare il mondo una parola una parola energetica può cambiare il mondo perché la stessa parola detta da un'altra persona non ha effetto allora ti chiedo quante parole vane dici quante parole che non hanno effetto tutte le volte che non hanno effetto le tue parole perché non sei collegato a una dimensione energetica non ci stai mettendo questo non ci stai mettendo quel tuo genio in te dentro non sta passando la tua gobba nella parola e quindi quella parola per quanto sia perfetta è vuota per questo non mettere a posto la tua dizione è nella tua dizione sbagliata che tocchi le persone e la dimensione energetica è il vero motore della fonte per essere collegato alla dimensione energetica devi essere collegato a ciò che davvero è vivo per te quindi che cosa è vivo per te allora l'eccellenza non è la perfezione tornando all'inizio se tu adesso vuoi collegare questa eccellenza alla tua professione di coach alla tua professione di massaggiatore alla tua vita non lo so non è più non puoi più immaginare di fare delle cose fatte bene non è quello è fare delle cose che siano vitali allora non è più tanto l'eccellenza una questione di sapere di studiare certo è anche questo la tua maestria è legata anche a quanto hai studiato ma non è lì l'eccellenza non è neanche la tecnica magica anche se gli strumenti contano e quali sono gli strumenti che metti in gioco non è neanche nel confezionare bene il tuo lavoro anche se il marketing conta hanno fatto qui a Genova c'è questo grande festival della scienza ogni anno e degli studenti avevano fatto questa cosa dove davano davano del cioccolato e poi ti venivano con una lettiera del gatto e con il cioccolato a forma di cacca era sempre cioccolato no le persone non riuscivano a mangiarlo è giustamente era il cioccolato però se è messo così non lo mangi no allora pensa quante volte tu presenti le tue cose così però è cioccolato però non è neanche questo abbiamo fatto a Genova questo incontro questo coach day se il coach fosse uno sciamano e a un certo punto avevo fatto anche un video se lo sciamano fosse un mercante ecco io andrei verso la conclusione di questo nostro viaggio nell'eccellenza proprio con questa metafora del mercante perché l'eccellenza la conoscono i mercanti perché perché ci sia l'eccellenza ci deve essere la consapevolezza del valore che hai ci deve essere la capacità di trasformare il valore in qualche cos'altro ci deve essere la capacità di scambiare il valore e se tu sei un grande venditore di tappeti e se tu hai dei tappeti di grande valore e ti propongono di scambiarli con della plastica tu non tratti invece se non sei consapevole che il tuo tappeto sia un tappeto pregiato tu lo scambierai con la plastica l'eccellenza inizia da questa consapevolezza che ciò che hai non lo puoi scambiare con la plastica allora per concludere l'eccellenza è la quinta essenza del coaching e tutti stasera possiamo fare un giro di guest nella nostra quinta essenza perché non c'è un punto d'arrivo ognuno fa un giro di guest sull'eccellenza per fortuna è la via dell'eccellenza non è l'eccellenza quindi la via continua e allora in questa essenza qua il nostro sottotitolo allenarsi all'imperfezione è davvero potente e non basta più amministrare l'imperfezione c'è bisogno che la tua imperfezione venga curata giorno per giorno come la tua cosa più preziosa e quindi io chiuderei questo nostro incontro proprio con questo intento che possiamo mettere tutti di curare come una pianta delicatissima la nostra imperfezione giorno per giorno e viva la via dell'eccellenza sono i 15 in punto quindi non so Marco mi devi fare l'applauso perché ho finito senza guardare l'orologio ma esattamente ai 45 in punto allora siccome questo speech era uno speech di festa per questo non tanto per il corso in sé per diciamo lo spazio che l'accademia si dà vi invito andare a guardare il nuovo sito che ci sono anche un po' tutte le nuove cose che non so forse l'abbiamo messo nella mail talent trattino coach credo che sia abbiamo c'è anche il sito vecchio ma ce l'abbiamo anche uno nuovo perché di solito andiamo in abbondanza quindi non è che togliamo quelle cose vecchie però questo è il nuovo sito dove ci sono un po' la struttura dei nuovi corsi e questo mese che sta per dove siamo in ottobre questo spazio di tempo che sta per convertire da ottobre novembre sarà molto ricco in questa chiave di eccellenza ma anche in chiave di appuntamenti per cui per chi non ci conosce l'invito è a spararsi l'attivazione del coach interiore che diamo anche un prezzo molto abbordabile proprio per poter percepire che cosa c'è qua dentro e vedere se c'è uno spazio di lavoro quindi nel caso scriveteci invece per chi è dentro stia attento con le antenne perché stanno per uscire una serie di appuntamenti extra che ci accompagneranno da qui a Natale col passo allungato un abbraccione se smutiamo sentiamo le voci evviva un abbraccione a tutti ciao a tutti grazie mille grazie 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 mille